Musica Bentornato Good Year, bentornata Proseguiamo nella sezione Modifica Impostazioni PC andando a pescare le due sezioni Privacy e Rete Dalla Charms Bar avvia Impostazioni poi Modifica Impostazioni PC ed infine dalla lista nella colonna di sinistra clicca sul pulsante Privacy troverai alcune sottosezioni Generale, Posizione, Webcam, Microfono e altri dispositivi Dalla prima sottosezione puoi visionare alcuni cursori che ti consentiranno di attivare o disattivare delle impostazioni qui la tua necessità o il tuo piacere la fa da padrone infatti questo perché sono le tue concezioni in termini di privacy, della tua privacy che ti faranno decidere su come posizionare tali cursori noterai che potrai consentire o meno l'accesso e l'utilizzo ad alcune informazioni relative al tuo account oppure ottenere suggerimenti in base a ciò che digiti con la tastiera o fornirti contenuti pertinenti alla tua area geografica soprattutto anche quando farai delle ricerche nella sottosezione Posizioni se il tuo computer ha un rilevatore di posizioni la puoi abilitare tramite sempre un cursore ciò permetterà al sistema operativo e all'elenco delle applicazioni nella lista di sotto di poter accedere alla tua posizione per poter migliorare per così dire, passami questo termine la tua esperienza nella navigazione o l'utilizzo delle stesse applicazioni la sottosezione Webcam abilita o meno tramite dei cursori la possibilità che alcune applicazioni possano utilizzare la webcam se naturalmente è collegata al tuo computer nella stessa sezione trovi il pulsante microfono che tramite anche in questo caso un cursore dà la possibilità ad alcune applicazioni di poter utilizzare un microfono eventualmente collegato al tuo computer l'ultima sottosezione permette ad altri dispositivi se popolata da una lista di utilizzare le applicazioni che necessiteranno l'utilizzo di tali dispositivi per espletare il loro scopo tornando indietro sotto la sezione privacy trovi il pulsante rete questa sottosezione ti permette di visionare connessioni, proxy, gruppo home e rete aziendale dalla prima sottosezione connessioni hai le connessioni a cui il tuo computer è collegato sia esso un modem oppure una rete VPN che potrai aggiungere in base alle tue necessità per la navigazione quindi potrai impostare i parametri relativi al fornitore della rete VPN la successiva sottosezione proxy ti consente di configurare automaticamente o manualmente la navigazione tramite un server proxy quindi se hai la necessità di far rimbalzare la tua navigazione tramite server intermediari ricorda che ciò naturalmente comporta un ralentamento della stessa perché navicherai tramite proxy e quindi non in maniera diretta la sottosezione gruppo home tramite dei cursori ti consente di scegliere i contenuti che potrai condividere qualora tu abilitassi un gruppo home e condividessi alcuni contenuti tramite dei cursori potrai selezionare ciò che potrai condividere all'interno di questo gruppo potrai anche abilitare la trasmissione dei contenuti all'interno del tuo computer all'interno degli altri dispositivi della rete oppure uscire dal gruppo stesso infine potrai visionare la password relativa a questo gruppo che consentirà ad altri utenti di poter accedere al gruppo che hai creato dall'ultima sottosezione rete aziendale puoi inserire le credenziali o i parametri che avrai ottenuto dall'amministratore di rete per accedere ad una rete aziendale oppure gestirne i dispositivi eccoci Gooditer nella parte pratica individuiamo la chance bar clicca su impostazioni di nuovo modifica impostazioni pc e nella sezione in cui compare la lista delle impostazioni possibili clicca sul pulsante privacy come vedi in questa sezione ci sono altre sottosezioni nella prima generale trovi alcuni cursori che puoi attivare o disattivare a tuo piacere leggendo cosa il singolo cursore va ad eseguire potrai impostare la gestione della privacy come meglio credi per il tuo caso qui puoi ottenere anche informazioni relative alla privacy dalla microsoft la sezione posizione ti consente qualora il tuo dispositivo abbia un localizzatore una volta attivato potrai selezionare quale di queste applicazioni nella lista sottostante se attivate ovviamente potrà accedere alla tua posizione per fornirti le informazioni relative al proprio scopo la sottosezione webcam se attivata potrà consentire alle applicazioni di sotto di poter utilizzare la tua webcam se naturalmente è collegata al tuo computer quindi potrai definire singolarmente quale delle applicazioni potrà far uso della webcam qualora ne servisse come potrebbe essere ad esempio l'applicazione Skype stesso discorso riguarda il microfono che ti permetterà di attivare o disattivare la possibilità di far utilizzare il microfono appunto da una lista che troverai di sotto di applicazioni la sottosezione altri dispositivi se popolata potrà anche in questo caso consentirti e quindi permettere ad alcune applicazioni di far uso di alcuni dispositivi che saranno evidenziati in questa sezione tornando indietro e cliccando sul pulsante rete accedi alla sezione relativa alle connessioni in pratica da questa prima schermata potrai visionare quali connessioni a quante e a quali reti il tuo computer è connesso in questo caso qui puoi evidenziare i parametri relativi alla connessione del mio computer puoi anche attivare o meno la possibilità che il computer il sistema operativo trovi altri dispositivi di rete e connettendosi poter utilizzare i rispettivi dispositivi oppure sempre in questa sezione avrai l'opportunità di poter aggiungere una connessione VPN cliccando su questo pulsante si aprirà una sezione nella quale potrai selezionare uno dei provider evidenziati che ti permetterà quindi di creare un accesso tramite VPN per la tua navigazione qui dovrai quindi inserire i parametri relativi al provider la sezione proxy ti permetterà di attivare automaticamente o manualmente quindi configurare la navigazione tramite proxy in pratica potrai far rimbalzare la tua navigazione tramite dei proxy al vantaggio della privacy otterrai come detto in precedenza un rallentamento in quanto la tua navigazione non sarà diretta qui attivandola manualmente dovrai inserire i parametri relativi al proxy la sezione gruppo home ti permetterà di creare e gestire le condivisioni del gruppo home cliccando su pulsante crea potrai ovviamente creare il gruppo home con cui potrai far accedere altri dispositivi a ciò che condividerai attivando o disattivando i rispettivi cursori potrai naturalmente anche uscire dal gruppo che avrai creato e tramite questa password potrai far accedere altri dispositivi al gruppo home l'ultima sezione rete aziendale ti permetterà di aggiungere questo computer ad una rete aziendale e gestirne i dispositivi per fare ciò però dovrai avere l'autorizzazione se non lo sei tu da parte dell'amministratore della rete aziendale perché dovrà fornirti dei parametri che dovrai inserire in questa sezione nella prossima lezione ancora la descrizione della sezione modifica impostazioni pc ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto